Radio Bari.doc, documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Musa gesticolare di prima mattina. Allora, velocissimamente il punto doc dedicato a questa rassegna inserita nel nostro calendario di eventi, però molto molto carina. Sono tre giorni dedicati a cortometraggi, cortometraggi tutti pugliesi, che saranno presentati da proprio dai regissi. Si terrà questa rassegna al reverso e si parte proprio oggi, ve lo avevo anche inserito nel calendario, oggi con Vito Palmieri e Giulio Mastromauro. Si continuerà poi domani con Alessandro Zizzo e Vito Palumbo e Roberto De Feo per poi finire il 21 con Enzo Pabiglionica e Alessandro Porzio. Sempre al reverso gli orari, l'orario è alle 21, tutti i giorni è alle 21 e l'ingresso è libero, quindi sicuramente ci sarà da divertirsi con questo cortocircuito al reverso. La puntata di oggi termina qui, è stata anche abbastanza lunga oggi. Io vi ringrazio per averci seguito, io ringrazio anche Federico Semplice per la regia di Telebari e Paolo Gentile per la regia di Radio Bari. Io vi ricordo inoltre, io, io, vi ricordo la nostra pagina Facebook radiobari.calte e il nostro indirizzo mail 1, 2, 3, punto calte, io ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho facendo. Buon le idee a tutti, buona giornata, ciao! Radio Bari.calte, gli incontri culturali e musicali di Radio Bari.